Sono solo teppisti e provocatori, con loro impossibile qualsiasi dialogo. Attraverso il portavoce Dmitry Peskov, il Cremlino ha giustificato le migliaia di arresti eseguiti ieri dalla polizia nei confronti dei manifestanti scesi in piazza per chiedere il rilascio del dissidente Alexei Navalny. Secondo l'ONG OVD Info, che ha monitorato le proteste, sono stati oltre 5.400 i dimostranti arrestati. Tra loro, Iulia Navalnaia, moglie del dissidente, fermata e poi rilasciata, ma condannata a pagare una multa. Sono stati invece ordinati gli arresti domiciliari fino al 23 marzo per la portavoce di Navalny, accusata di aver violato le norme anti-covid, per aver invitato a partecipare alla manifestazione. Nei giorni scorsi erano stati messi ai domiciliari anche il fratello e altri collaboratori di Navalny. Domani sono previste nuove manifestazioni perché Alexei Navalny comparirà davanti a un tribunale che potrebbe revocargli la libertà condizionale concessa dopo una condanna per frode nel 2014. Rischia tre anni di carcere. L'arresto di Navalny e le repressioni delle manifestazioni in suo sostegno sono state di nuovo condannate dal segretario di Stato americano Anthony Blinken, che ha annunciato una risposta da parte degli Stati Uniti. Forse nuove sanzioni. Ferma condanna anche dal governo tedesco, che però, a sua volta, è stato invitato dalla Francia a rinunciare alla partnership con Mosca nel progetto del gasdotto Nord Stream 2. Infine c'è la condanna dell'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell, che nei prossimi giorni sarà a Mosca e non escluso che chieda di incontrare Navalny.